Sono lieta di annunciare che i casi di coronavirus a Darzignano sono tutti negativizzati, parole sorrisi di Alessia Bevilacqua, sindaco, che come ogni primo cittadino affezionato alla sua comunità non vedeva l'ora di annunciare ai cittadini questa notizia, pur mantenendo alto il livello di allerta, proseguendo nella campagna di raccomandazione alla prudenza rivolta ai cittadini, visto che la diffusione del contagio da Covid-19, come dimostrano i fatti recenti di Pogliana Maggiore e Sossano, rappresenta tutt'altro un ricordo, rimane l'attualità. L'annuncio viene datato martedì 7 luglio a circa 4 mesi dalla comparsa dei primi casi di infezione, che ha aggredito in tutto 38 azignanesi, lasciando dopo il suo passaggio 6 croci su cui piangere, tra queste una delle prime vittime in assoluto nel Vicentino. Rimangono ancora da monitorare alcune situazioni individuali di persone in sorveglianza domiciliare, ma dati dell'azienda sanitaria locale tra gli azignanesi ad oggi non risulta più alcun caso positivo. L'aggiornamento odierno, offerto dalla sede municipale, sicuramente tra i tanti precedenti, quello più accompagnato da un sospiro di sollievo. Oggi con un videomessaggio dal proprio profilo Facebook e un comunicato pubblicato sul portale istituzionale, Alessia Bevilacqua ha voluto personalmente informare i due cittadini della casella 0 relativa agli oltre 25 mila residenti. Mi sento di raccomandarvi comunque di non abbassare la guardia, ha continuato il sindaco.